Rincari in vista per bus e funicolare. La giunta del comune di Como, recependo quanto stabilito da Regione Lombardia, ha deliberato oggi gli adeguamenti tariffari. I ritocchi vanno da un minimo di 5 centesimi a un massimo di 2 euro. Per quanto riguarda la funicolare Como Brunate, il biglietto andata e ritorno passa da 5,30 euro a 5,50 euro. L'abbonamento mensile ordinario passa da 33 a 35 euro e quello integrato bus più funicolare da 48 a 50 euro. L'abbonamento Io viaggio in Lombardia, valido su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale, passa da 102 a 103 euro mensili. Per quanto riguarda poi i bus, gli abbonamenti urbani settimanali passano da 11,40 euro a 11,50 euro, i mensili urbani da 33 a 33,50 euro, quelli di area urbana da 41 a 41,50 euro e gli abbonamenti annuali urbani personali da 290 a 292 euro. Gli adeguamenti entreranno in vigore domani. Resta invariato il costo dei biglietti urbani di corsa semplice da 75 minuti e degli abbonamenti annuali urbani per gli studenti. Sempre oggi, in materia di trasporti, la Giunta del Comune di Como ha condiviso una proposta avanzata dall'assessore Bruno Magatti, un indirizzo che chiede ad ASF Autoline di indicare nell'orario le corse non attrezzate per il trasporto dei disabili. L'azienda sostiene di avere l'85% dei pullman dotato di piattaforme per la salita delle persone disabili, spiega Magatti, quindi non è più sopportabile che un disabile debba prenotare una corsa anche in un'ottica di accoglienza turistica.